Siamo le nuove ragazze, allora vediamo un attimo Nadia e Gialuigi chi sono? Veramente sei tu? Ah, un grosso applauso a tutti i suoi ragazzi, ai suoi figli, veramente, eravate voi, auguri, auguri di cuore. Poi mi è arrivato ancora, c'è un pacchettino, c'è prosta per te, c'è una prosta per te. Quando vi dovete scusare? Scusate, la data non l'avete messa ragazzi. Vi dovete scusare? Dopodomani. Di aprite. Dopodomani. Ah, capito. Mi è arrivato questa bustina, posso facciare qualche passo? Posso vedere? I tuoi cazzi qui faccio. Allora dico, eh, vi vogliamo far venire un attimo, signorina Nadia, Gialuigi venite un attimo qua, vediamo che cosa c'è in questo pacchettino. Ecco qua, togliamoli con un applauso. Allora, furia, furia, furia. Allora, vediamo un attimo, c'è una busta rossa che è sigillata, apritela voi ragazzi, non so neanche di che cosa si tratta perché è meno difficile a me, se volevo leggerla io. Però, questa qua è fin te Nadia, perché, questo è, allora vediamo nella bustina sua rossa. Eh, me la ringa, 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 me la ringa. E lui mi ride? Ah, questo è tuo, no, questo è tuo, cazzadona, ti mando, che cazzo è tua, cazzadobe, vediamo alla? Gianluigi, Gianluigi, vediamo qui, è già la ventiera, Gianluigi, Gianluigi, tu te la dirai, sto pazza. Allora, c'è scritto un attimo di silenzio. Tienimi sempre nella tasca, tienimi sempre nella tasca. Ti sarò sempre fedele anche quando il tempo passerà e la tua Nadia si ammocerà. E poi c'è arrivato vicino a questo pacchetto a te, non so, io vedo forse è una mollica di pane, ragazzi. Posiamo vedere? Non lo so, non ho visto voi, te lo giuro, noi perché... Apriamo, vediamo. C'è una palla di riserva, è un seno, è un seno, tutto per il nostro Gianluigi. Facciamoci un applauso, ci diamo le mani, vediamo Nadia cosa ha fatto così. Ricordiamoci della bambina. Nadia, vediamo che cosa è uscito a te. Questa qua? Una lettera, sì. C'è una lettera dentro che cosa c'è scritta Nadia. Voi pensate che è arrivato a te che si intuca una bruciata che è ma... Allora... Visto che lo sposo non ti soddisfa abbastanza, abbiamo pensato noi a farti sentire affagata. E' che tanto... E' che tanto... Niente di meno, ma pagate le manate le tue fogliette. Lui qua, venite cadere da puto giù, ci sarà da niente. Nadia, che poi che cosa sono questi bigliettini? Ah, le posizioni, le cose dell'amore. A me straviti, Maglioni. Nadia, non li pensate. Quello che ti senti di fare, devi fare. Chi sti è? Auguri, ragazzi, veramente auguri. E' un canto di tutta la vita.